e si riesce ad abbassare un po' la luce qua perché è veramente grazie sì esatto qua o facciamo il blues brother allora innanzitutto tocca a me a nome di tutta la comunità di Sherwood la festa di dare il benvenuto a Maurizio Landini che anche quest'anno ha deciso di essere qui con noi a discutere questo ci fa molto piacere e poi naturalmente di condurre questa discussione chiarisco un po' il senso che vogliamo dare a questo incontro per il poco tempo che c'è ma anche per il tentativo che vogliamo fare di creare degli spazi di discussione all'interno di questo appuntamento che siano come dire utili innanzitutto a costruire insieme un pensiero a discutere assieme a vedere assieme quali sono i nodi delle questioni e in questo caso parliamo naturalmente di ciò che significa alternativa alle politiche del rigore dell'austerity del governo Monti ma anche più in generale della banca centrale europea della troica di tutto ciò che sta accadendo e che va sotto il nome di riforme ma che in realtà sostanzialmente rappresenta un arretramento pauroso sul piano dei diritti del lavoro dei diritti sociali civili nel nostro paese in tutto il continente naturalmente come vogliamo fare questa discussione ci siamo non c'è non c'è naturalmente bisogno di farlo con maurizio però ci siamo detti vogliamo fare in maniera diretta cioè nel senso discutere tra noi in termini pubblici offrendo anche la possibilità a tutti di partecipare in qualche modo a questa discussione come facciamo quando ci troviamo nelle riunioni cioè avere un confronto sulle questioni che ci hanno accompagnato e che ci accompagnano che sono aperte molto diretto senza il problema di non dirsi le differenze ma anzi costruendo un confronto sulle differenze le differenze storiche politiche culturali e guardate di differenze naturalmente abbiamo visto ce ne sono tante diventano qualcosa di diciamo così scabroso e questo è un po quello che fa la politica la cultura politica italiana in generale fa diventare scabroso ciò che invece è una ricchezza e una diversità nel momento in cui le occulta allora noi ci troviamo con maurizio ormai da due anni sinceramente io per quello che è il mio percorso come i nostri compagni non avrei mai pensato di condividere con il segretario generale della FIOM discussioni politiche su cosa fare su come portare avanti diciamo così una dinamica di movimento un conflitto sociale per un'alternativa su come contrastare le politiche credo che neanche il segretario generale della FIOM avesse mai pensato di discutere con centri sociali con dinamiche di movimento questo tipo di elementi questo è accaduto credo che vada valorizzato come dato che ci portiamo dal 16 ottobre del 2010 va dato grande merito al fatto che la FIOM il 16 ottobre del 2010 a cavallo di quel no di quel no pronunciato a Mirafiori pronunciato a Pomigliano pronunciato a chione ha aperto un percorso di mobilitazione sociale di discussione politica e culturale in questo paese che ha anche saputo ridare centralità a una figura del lavoro che era stata occultata il lavoro di fabbrica era stata occultata travolta da quelle che sono state anche le modificazioni vere della dinamica del lavoro un lavoro che oggi l'abbiamo capito molto bene è organizzato in termini capitalistici per essere precario cioè precarizzato il più possibile e non importa dove è collocato nella filiera produttiva o in che tipo di settore ma il nodo della precarietà è un dato generale non è più la precarietà del i 2 milioni e 520 mila precari da stabilizzare la precarietà è un dato generale di questa fase del capitalismo e il lavoro che deve essere anche assoggettato ai meccanismi della finanza precarizzazione e finanziarizzazione sono due anime gemelle di questa fase storica e politica del capitalismo e anche della crisi allora io credo che questo elemento e comincio così questa discussione con Maurizio pubblica appunto questo elemento della precarizzazione del lavoro noi l'abbiamo il 16 ottobre grazie anche al grande coraggio della fiom a partire da un no io sottolineo questo dato del no perché sembra in italia ancora frutto di questa cultura politica imposta a suon di media mainstream sembra che il no in questo paese chi lo dice sia tra virgolette automaticamente un reietto sia una persona che non vuole costruire qualcosa di nuovo sia quello che non vuole partecipare invece io credo che sia fondamentale riappropriarci dei no cioè riappropriarci come allora di un elemento di rifiuto di alcune cose rifiuto che naturalmente apre immediatamente lo spazio politico la precondizione per poter pensare a qualcosa di nuovo ma se tutto quello che abbiamo di fronte viene accompagnato da sì ma anche o sì per forza io credo che non otterremo mai nulla mi sembra la storia del centro sinistra italiano cosiddetto che di fronte alle politiche di smantellamento dei diritti del lavoro dice sì per forza oppure sì ma anche nel caso di bersani è sì per forza perché c'è lo spread perché c'è la situazione internazionale perché c'è qualsiasi cosa nel caso di chino è sì ma anche cioè distruggere i diritti del lavoro significa tra virgolette abbracciare in termini vincenti il neoliberismo no questa logica che ci ha accompagnato da genova in poi anche a sinistra è stata voi tutti lo sapete deleteria fino in fondo ecco io credo che questo elemento del 16 di ottobre del no cioè del rifiuto sia un elemento che va tradotto politicamente che cosa significa e chiudo e ti passo subito la parola penso che abbia avuto un grandissimo valore quel no perché si è posto il problema innanzitutto di dire no quindi rompendo anche con delle compatibilità le compatibilità della cgl le compatibilità di una dinamica appunto che collega sempre le sorti e il futuro del più grande partito della sinistra italiana istituzionale con quelle del sindacato più grande eccetera eccetera no quel no ha rotto una serie di meccanismi mi ricordo allora quando tu intervenivi sui parlamentari futuri sindaci che ti dicevano che spiegavano agli operai che cosa dovevano votare a quel referendum con la pistola puntata alla tempia mi riferisco a fascino no per esempio uno che notoriamente è sempre stato in catena di montaggio e sempre ha saputo che come si vive con tempi e ritmi imposti dal dal signor marchione vabbè chiudiamo lì e questo elemento però non si è fermato lì mi sembra un dato del percorso che abbiamo avuto fino ad oggi che va recuperato quel no è diventato motore cioè è diventato subito immediatamente e io su questo chiedo conferma maurizio è diventato immediatamente una manifestazione che chiamava raccolta la società cioè non è diventata la manifestazione dei metalmeccanici il 16 ottobre ma è diventato il no dei metalmeccanici che significava per tutti la possibilità di dire no di dire di aprire un percorso allora io credo una delle cose che mi viene in mente e poi arriviamo anche ad altre che invece magari sono dei limiti delle cose però una delle cose veramente positive di quella di quella stagione del aperta dal 16 ottobre 2010 è stata quella che quel no si è posto il problema di aprire immediatamente ad altri cioè di fare un discorso di società io penso che questo elemento lo dobbiamo recuperare anche per il futuro perché la tendenza oggi invece che i no siano testimonianza e questa testimonianza sia il frutto di una logica per cui in fin dei conti siccome non ci riusciamo siccome in italia non cambia mai nulla siccome non è possibile perché sono troppo forti o perché siamo noi troppo impauriti o perché lo spread troppo alto eccetera eccetera alla fine il no si sussurra ma si sussurra individualmente ci si fa un po tra virgolette i fatti propri anche dal punto di vista politico io penso che questa prima cosa la dobbiamo rompere decisamente se vogliamo pensare di continuare e di cambiare qualcosa e volevo chiedere a maurizio se secondo te quel quel nodo lì del 16 ottobre ecco la vostra discussione anche rispetto a un bilancio che abbiamo fatto coincide con questo oppure se è una cosa che appunto sta solo nella mia testa e vabbè ci sta anche quello pularsi la prima cosa che vorrei dire è che io considero e qui c'è un punto anche di riflessione di discussione da fare che la partita sia con la fiat sia anche la partita del cambiamento politico e sociale nel nostro paese è totalmente aperta e quindi che non stiamo discutendo di una cosa che si è già conclusa e che quindi ha già avuto una sua evoluzione la dico in modo ancora molto più secco così ci capiamo io non penso che siamo qui a discutere di una sconfitta penso che siamo qui a discutere di una partita complicata e difficile ma che è ancora totalmente aperta e che può essere ancora vinta e lo dico convinto di una cosa precisa che è questa potrei fare anche una battuta sul piano sindacale uno che io considero per me una persona molto importante che mi ha insegnato molto un punto di riferimento che adesso non c'è più come Claudio Sabatini diceva spesso che per un sindacalista è il segreto anche di provare a fare degli accordi a vincere e di poter durare un minuto più del tuo padrone no e quindi di trovare tutte le forme necessarie per poter allargare il tuo consenso le tue alleanze per tenere aperta una battaglia e qui faccio una riflessione io parto da questo punto quando due anni fa perché di questo stiamo parlando ci fu il caso di Mirafiori io ricordo che in quei giorni la stragrande maggioranza degli italiani delle forze politiche dicevano che quelli della FIOM erano dei matti che non si capiva perché si opponevano a quella deriva e che quello sarebbe stato un caso eccezionale non ripetibile e che andava affrontato perché c'era una serie di problemi oggi noi siamo di fronte al fatto che non solo siamo in presenza alla FIAT che non esiste più il contratto nazionale che quelle intese sono state estese a tutti i dipendenti che addirittura negli stabilimenti della FIAT si cerca di mettere in discussione l'esistenza di un sindacato cioè la FIOM e quindi della libertà delle persone di poter decidere del proprio sindacato e siamo addirittura in presenza del fatto che il Parlamento e il Governo hanno fatto una serie di leggi l'articolo 8 che permette alle imprese di poter derogare dai contratti e dalle leggi siamo in presenza anche di una modifica della nostra Costituzione e questo è stato fatto per rendere legittimi accordi quelli della FIAT che altrimenti sarebbero contro la Costituzione e non sarebbero legittimi siamo cioè di fronte al fatto e qui vorrei che si riflettesse proprio per usare anche che non siamo in presenza di un'azienda cattiva o di un marchionne perverso che ce l'ha col sindacato ma siamo di fronte al fatto che la crisi che esiste, che c'è viene utilizzata per modificare radicalmente il sistema sociale di relazioni e di diritti che in Italia ed in Europa a diversità del mondo si è affermata ed in particolare della costruzione e del cambiamento del sindacato che non deve più essere un soggetto generale che si pone il problema, poi ci può riuscire o meno ma si pone il problema di rappresentare tutte le persone che lavorano in qualsiasi azienda siano, con qualsiasi rapporto di lavoro hanno perché tutti debbono avere gli stessi diritti e la stessa retribuzione ma il modello che propone la Fiat se esteso a tutta Italia, cioè che non c'è più il contratto nazionale che ogni azienda si fa le sue regole, che ogni azienda si segue il suo sindacato che se non accetti quella condizione puoi essere licenziato tu sei di fronte a una modifica radicale non solo dei diritti di chi lavora ma anche del sindacato che non è più un sindacato confederale generale ma diventa un'organizzazione aziendale, corporativa che non solo accetta l'azienda ma assume gli obiettivi dell'azienda come propri obiettivi e quindi sparisse anche la soggettività del lavoro le persone non sono più cittadini che hanno un'idea, che hanno dei valori che possono esprimersi e che quindi esprimendo la propria soggettività hanno anche il diritto di coalizzarsi assieme per contrattare e cambiare la propria condizione diventano semplicemente dei soggetti o meglio degli oggetti che debbono aderire alle scelte sostanzialmente dell'impresa e qui siamo a un elemento che mette non a caso le cose che sta facendo la Fiat sono contro la Costituzione non è un caso che i tribunali italiani stanno condannando la Fiat e nonostante ciò la Fiat tenta di non applicare e c'è un silenzio totale della politica del Parlamento e anche del Governo ma siamo di fronte adesso questo ragionamento lo faccio non per un applauso lo faccio proprio per una riflessione perché io ho volto la sensazione che anche tra di noi ma in senso generale non sia chiaro quello che sta avvenendo la radicalità di quello che sta avvenendo non è che Marchionne è cattivo Marchionne pensa che quello è l'uscita dalla crisi quella è l'idea e cioè che le persone debbono essere in guerra tra di loro un lavoratore della Fiat deve essere in guerra con un lavoratore della Volkswagen perché la sua vita dipende dal fatto se un'altra azienda va peggio o se può essere messa in discussione allora io penso che noi non possiamo considerare che questa partita è chiusa che è già finito tutto ma penso che questa partita deve essere aperta lo dimostrano i nostri delegati che sono ancora dentro alla Fiat che non avendo diritti che essendo non chinano la testa reggono e abbiamo la necessità di impedire che questo modello diventi il modello sociale politico che viene rappresentato in questo paese dopodiché e arrivo al 16 lo dico perché questo secondo me è un punto importante perché la dico brutalmente io ho fatto una lunga discussione siamo molto chiari perché a un certo punto in questa come sapete c'è stata una qualche discussione anche con la mia confederazione che mi diceva che c'era da fare una firma tecnica che era un brutto accordo ma ci voleva la firma tecnica io sono sempre stato convinto che le firme tecniche non esistono così come non esistono i governi tecnici cioè o firmi o non firmi non è che esiste una firma che è tecnica e che la posso ritirare così come abbiamo visto che i governi tecnici mi pare sia chiaro a tutti che sono balle che non esistono che fanno delle scelte anche pesanti gravi e quindi devi fare delle scelte e c'è stato a un certo momento anche l'idea di dire che però bisognava fare i conti Marchionne aveva vinto e quindi noi eravamo stati sconfitti vorrei che fosse chiaro questo passaggio perché se uno pensa ad aver perso vuol dire che deve mollare tutto e mettersi d'accordo su come venirne fuori non è che uno perde e poi lascia le cose se ha perso è finita io non è che penso che non abbiamo perso perché non voglio riconoscerlo io penso proprio che la partita sia aperta proprio perché c'è ancora una capacità un consenso di mobilitazione e perché le risposte ai problemi non ci sono è talmente vero che quello che sto dicendo che è legato a quello che sta avvenendo non solo la Fiat non sta facendo nessuno degli investimenti che aveva detto ma noi siamo di fronte al fatto che quello che non funziona è il modello sociale di produzione siamo di fronte al fatto che quello che sta avvenendo ha una radicalità perché è un modello complessivo che non funziona e che quindi bisogna ripensare complessivamente siamo di fronte al fatto pensiamoci che questi processi stanno avvenendo perché c'è un attacco alla democrazia senza precedenti badate che la Fiat ha fatto votare lei ha deciso che si votasse a Pomigliano e a Mirafiori perché c'era il ricatto o mi dici di sì o ti chiudo la fabbrica ma quando noi FIOM abbiamo chiesto facciamo votare tutti i dipendenti della Fiat per vedere se l'accordo che tu vuoi astendere tutti sono d'accordo no siamo di fronte al fatto che hanno rinunciato e se voi ci pensate uno dei problemi che abbiamo di fronte è che la partita è ineguale perché il diritto delle persone di poter votare e di poter decidere liberamente sui propri contratti e sui propri sindacati oggi non esiste non c'è è la Fiat che decide come a livello più generale sono le imprese che decidono con quali sindacati fare gli accordi con quali gli conviene fare e siamo di fronte al fatto che una legge sulla democrazia sulla rappresentanza non esiste noi siamo al paradosso che un cittadino può fare le primarie può decidere di votare al referendum può decidere di andare a votare le elezioni politiche se sei in fabbrica o se sei in un luogo di lavoro non dico la fabbrica se sei in un luogo pubblico se sei in un centro commerciale in qualsiasi condizione di lavoro sei a una persona che lavora la cittadinanza la nostra costituzione è negata perché il diritto di scegliere i propri sindacati e di votare i propri accordi non ce li ha quindi prima di dire che è una partita è chiusa io voglio battermi perché la democrazia deve essere stesa da parte di tutti e la voglio utilizzare poi faccio un'altra riflessione certo noi quando abbiamo pensato il 16 ottobre devo dire non è che quando l'abbiamo decisa a luglio avevamo già capito tutto quello che succedeva mi permetto di dire ci sono delle volte che devi fare delle scelte e avere il coraggio di farla che non sai come va a finire ma che la devi fare perché badate che se uno fa solo le scelte in base a come va a finire vuol dire una cosa molto precisa che si deve mettere d'accordo prima che non rischia mai nulla invece ci sono dei momenti io credo che per quello che pensi per quello che credi per la dignità delle persone che rappresenti devi assumerti anche la responsabilità di fare delle scelte che non sai come vanno a finire ma vanno fatte perché se non le fai di sicuro hai già perso prima ancora di cominciare a batterti è avvenuto una cosa importante il 16 di ottobre che questa dignità di chi lavorava di dire di no ha parlato al paese si sono di nuovi il lavoro se ne è tornato a discutere della condizione si è visto che non era vero che c'erano quelli garantiti e quelli non garantiti si è visto che c'era un peggioramento delle condizioni generali si è visto che c'era un attacco alla democrazia e quel 16 di ottobre è stato capace di diventare un elemento aperto noi l'abbiamo costruita anche così anche riflettendo sul fatto che non potevamo tenerla solo dentro alla FIOM che c'era bisogno che la FIOM si aprisse discutesse si confrontasse e per preparare il 16 di ottobre ci siamo confrontati con i movimenti per l'acqua con gli studenti con i centri sociali per la prima volta io da segretario generale non perché mi ero bevuto il cervello ma perché c'eravamo confrontati avevamo discusso da quella piazza ho detto che anche un sindacato come il nostro doveva ad esempio porsi il problema del reddito di cittadinanza doveva porsi il problema di rappresentare più il lavoro di ricostruire un'alleanza e di unire tutto ciò che era stato diviso con anche la necessità di un cambiamento del sindacato dopodiché io faccio due riflessioni che sono queste e apro al limite a un altro punto di discussione se ci si pensa allora c'era ancora Berlusconi ed è indubbio lo dico io che ha funzionato anche il fatto che questa era una cosa che chiedeva anche un cambiamento perché molto spesso in questi anni ci si è uniti molto contro Berlusconi e poco sui contenuti al punto che Berlusconi è durato 20 anni e che adesso abbiamo un governo lo dico io per primo che sul piano dei contenuti sta facendo peggio di quello che ha fatto Berlusconi in questi 20 anni quindi siamo di fronte ad un elemento di contraddizione molto precisa ma cos'è avvenuto e io qui vedo un punto che dal 16 di ottobre non ci sono stati soli i metallmeccanici c'è stato diversi movimenti nel paese se non ora quando delle donne il movimento referendari gli studenti nella scuola per la riforma Gelmini e se uno ci riflette quei mesi lì a cosa hanno portato hanno portato alla primavera delle elezioni amministrative la riconquista di Milano Napoli Cagliari cioè il fatto che ci sia stato un cambiamento ci sono stati referendum che hanno visto non i partiti le persone farsi soggetti promotrici di un cambiamento rispetto ad altre cose però lì si è aperta una contraddizione io sono tra quelli che continuo a pensarla così che quando è caduto il governo Berlusconi c'era da andare a votare perché io continuo a pensare che la democrazia e il voto rimane un elemento decisivo su cui costruire un cambiamento e penso che ci sia stato anche un elemento di frustrazione perché se questi movimenti qui non è che la gente si è battuta è andata in piazza ha sostenuto la fiomma ha sostenuto le donne ha sostenuto gli studenti ha votato per un cambiamento ha votato per il referendum perché l'obiettivo era quello di avere Monti al governo non mi pare che sia questo il punto e lì si è aperto senz'altro un punto di contraddizione e oggi noi siamo di fronte al fatto e qui c'è un altro elemento che questo governo con un consenso che nel Parlamento non c'è mai stato sta facendo dei tagli e sta applicando alla lettera le scelte che sono state fatte dalla BCE fatemela dire a modo di battuta se prima avevamo presidente del consiglio un populista usiamo questo termine convenature autoritarie a me pare di poter dire che oggi abbiamo al governo senz'altro una persona più integra una persona che per tanti canoni si presenta bene ha studiato è un professore universitario ma io mi permetto di dire è una persona autenticamente di destra e che sta facendo politiche non di emergenza non giriamoci attorno ma stanno applicando rigorosamente quello che il piano europeo che la BCE ha chiesto di applicare e che sta determinando una modifica radicale del nostro sistema sociale con un taglio ma che non interviene su nessuna delle ingiustizie e delle diseguaglianze che in questi anni hanno prodotto la crisi e la controprova molto precisa è che nei confronti della Fiat voi avete sentito un cambiamento? No, io faccio questo semplice esempio se c'è un'azienda condannata per comportamento antisindacale dieci volte da dieci tribunali diversi è la Fiat siamo al tribunale di Roma che dice che la Fiat è condannata a Pomigliano perché ha un atteggiamento discriminatorio e cioè non aveva assunto nessun lavoratore iscritto alla FIOM consentitemi questa diciamo così questa cosa positiva che vorrei dire noi abbiamo usato nella causa che abbiamo fatto la Fiat per dimostrare che c'era una discriminazione ci siamo rivolti a un importante matematico inglese quindi anglosassone puro perché se lo dice un anglosassone forse anche Marchionne doveva prendere atto che era detto da un anglosassone che ha dimostrato che era più facile vincere all'enalotto che un iscritto della FIOM potesse entrare perché un iscritto su 2000 assunti non c'era e al punto che la discriminazione che il tribunale ha indicato era proprio questa e deve dovrebbe la Fiat assumere 145 persone noi siamo di fronte al fatto che la Fiat dice non solo che non li riassume e ha chiesto al tribunale di sospendere tutto ma sta già dicendo che se per caso la obbligano le licenze altri 145 e noi siamo nel silenzio più totale della politica del Parlamento delle forze di qualsiasi genere che non affrontano sostanzialmente questo tipo di elemento allora io dico che qui si pone un punto di fondo di analisi e di riflessione perché i tagli che questo governo sta facendo e badate che non sono coglioni come qualcuno racconta per me c'è una logica precisa sono passati dalle pensioni dicendo che alzavano l'età pensionabile in favore dei giovani perché c'era da tutelare i giovani hanno fatto la riforma del mercato del lavoro dicendo che c'erano i garantiti e i non garantiti adesso dicono che colpiscono gli statali perché non fanno un cazzo per riconoscere qualsiasi logica è un peggioramento secco delle condizioni precedente in un'ottica che tenta di aprire una divisione e che salta completamente sia i sindacati sia le forze politiche perché non mediano con nessuno ma decidono dicendo che sono unti dal signore per cambiare sostanzialmente il quadro allora io penso che oggi e qui c'è un punto che considerare aperta la battaglia e considerare possibile un cambiamento significa proprio riaprire nel nostro paese anche di fronte alle difficoltà al peggioramento che c'è della crisi anche economica che pesa del rischio di perdi posti di lavoro l'idea che un'altra soluzione possibile è da fare e per fare questo c'è bisogno io credo di ritornare ad un processo di partecipazione quando vedo che il 50% delle persone non va a votare quando vedo che come sta avvenendo le forze politiche dimostrano di non avere grandi differenze tra di loro io considero che ci sia la necessità di tornare ai contenuti e io penso che ad esempio e come FIOM questo lo pensiamo e siamo qui a discutere assieme a voi anche per questo che noi non possiamo accettare che semplicemente perché il Parlamento ha approvato queste leggi noi possiamo considerare accettabili quello che è stato fatto lo penso sulle pensioni lo penso sull'articolo 18 lo penso sul mercato del lavoro lo penso sul fatto che il pareggio di bilancio in costituzione io la trovo una follia pura contro l'idea di uno sviluppo di un intervento pubblico nell'economia e allora ci dobbiamo porre il problema anche con i limiti che ci sono stati io per primo penso che il sindacato nel suo insieme non ha fatto a sufficienza quello che doveva fare penso che il fatto che la CGL non abbia fatto lo sciopero generale come si era impegnato a fare dando una continuità sia stato un errore grave e pesante ma nonostante questo nonostante io penso che noi ci dobbiamo porre il problema oggi di fronte a questa situazione che può apparire più complicata e più difficile da prima quale strada possiamo tenere aperto per un cambiamento perché io sono convinto che la maggioranza delle persone di questo paese quelle che lavorano quelle che cercano un lavoro quelle che sono in una condizione anche di difficoltà o che vogliono seriamente fare anche gli imprenditori in un paese hanno bisogno di un cambiamento allora io penso che ad esempio ragionare non le cose ritornano non c'è bisogno di fare un altro 16 ottobre le cose non tornano mai come prima ma oggi io il punto che vedo è se non do per scontato che quello che hanno fatto è già chiuso e voglio tenere aperta la cosa allora bisogna decidere delle cose e noi come FIOM stiamo pensando e riflettendo proprio rivolgendosi nello stesso modo alle forze sociali ai movimenti ai giovani ai centri sociali anche alle forze politiche per chiedergli conto di una coerenza che bisogna riaprire un processo che bisogna riaprire una fase in cui le persone si ripossano mettere assieme dando anche degli strumenti io ho imparato una cosa in questa nazione se ci sono delle leggi che il governo fa e il Parlamento approva e i cittadini non sono d'accordo esiste la possibilità di raccogliere le firme e di fare dei referendum abrogativi e io penso che sull'articolo 8 sull'articolo 18 sull'articolo 81 noi dobbiamo porci questo problema così come penso che la costruzione di un cambiamento anche politico e di programmi alternativi che alle prossime elezioni debbono essere messi in campo debbono essere anche sostenute dal fatto che ci sia di nuovo una partecipazione dal basso che si costruisse lo dico con chiarezza voglio fare il sindacalista non faccio questi ragionamenti perché penso che a un certo punto uno debba fare dell'altro ma penso allo stesso tempo che oggi c'è bisogno di tornare a una coerenza di tornare cioè a una pratica concreta e di non dare nessuna deleghe in bianco a nessuna forza politica io voglio sapere prima delle elezioni chi si candida che cosa vuol fare lo cancella modifica questa riforma delle pensioni sì o no abbassa l'età pensionabile sì o no cancella le forme precarie sì o no cancella l'articolo 8 sì o no fa un piano straordinario di investimenti per creare l'occupazione sì o no favorisce la riduzione degli orari di lavoro sì o no e su questa base noi dobbiamo costruire anche un processo di partecipazione e trovare la forma anche sociale che ridia uno spazio di movimento e di costruzione non di alleanze con chi c'è già costruito così com'è ma se si aprono un processo anche di processo sociale e di diritto a costruire anche una coalizione diversa che vada in questo senso e io considero che questo problema è aperto e perché questo problema è aperto? perché adesso non giriamoci attorno hanno raccontato che tutte queste manovre dovevano servire a ridurre lo spread no? si sta forse riducendo lo spread? siamo di fronte al fatto che le ragioni per cui si è prodotto questa crisi l'hanno modificata? no siamo di fronte al fatto che non solo è peggiore di prima ma i posti di lavoro sono a rischi ed è il modello sociale in quanto tale che non funziona allora io credo noi dobbiamo avere la pazienza ma anche la forza di pensare qual è una strada alternativa ma di avere ragione di non rinunciare in questa fase alle idee mai come adesso l'idea di durare un minuto in più di qualcun altro secondo me è importante ma non semplicemente resistere per resistere ma resistere per aprire un processo di cambiamento che porta anche un cambiamento verso il sindacato non ci gira attorno verso una maggiore democrazia ma che tiene aperta sostanzialmente questo processo e io sono convinto che questo è un argomentare e dobbiamo ragionare su come si può fare e su come si può discutere che può avere una maggioranza reale nel paese perché questo significa fare gli interessi delle persone che lavorano e ridare una soggettività anche a quelli che un lavoro lo vogliono trovare e allora io penso non di ripetere un 16 di ottobre ma di riflettere rispetto a quello che è avvenuto anche per fare i conti con una nuova fase che noi dobbiamo mettere in campo e io penso che noi dobbiamo ragionare che quest'estate diciamo così ci può servire per riflettere quali azioni mettiamo in campo ma dobbiamo pensare già dal mese di settembre di avviare una fase che abbia la capacità di tenere assieme una costruzione dal basso di un cambiamento che è necessario grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti